Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Fidio Alprodico 65, della pagina Facebook Aguilas Cup, di tutte le piattaforme e social dove siamo presenti con il nostro progetto editoriale Fidio Alprodico 65 Aguilas Cup. Come vedete, alle mie spalle, perché un po' lo copro, vedo la scritta. Come sempre, cerco di portare alla vostra conoscenza un qualcosa che mi ha particolarmente sorpreso. Ieri, girando ieri notte, tra la prima volta, credo una o due volte che lo faccio, tra i vari social, ho visto questa esternazione che fa Vladimir Luxuria, in cui praticamente parla della sua esperienza all'isola. Mi è saputo tanto di un video farsa, di un video fatto per forza, quasi che è stata costretta a farlo. Non è la prima volta che in questo percorso dell'isola Vladimir Luxuria fa dei video farsa, praticamente la questione di Francesco Benigno e di altri, dove chiede scusa, ad esempio la mancata cordialità con Eleonore Casalegno, pare che addirittura se ne siano detti fuori onda, Stich non l'ha voluto mandare in onda perché già il programma andava male, quindi di tutti i colori, invece poi magari quando abbiamo visto le trasmissioni era tutto, voglio dire, cuori, tutti i cuoricini a destra e manca, anche il rapporto tra i due opinionisti, quindi Dario Maltese e Sonia Bruganelli, è stato al veleno sempre e qualcosa si è visto anche nelle trasmissioni. Che cosa è successo praticamente? È successo questo che lei, Vladimir Luxuria, ha fatto un'intervista alla TV di Sonia Bruganelli, vale a dire SDL TV, che sarebbe la TV della sua grande agenzia di casting che ha insieme all'ex marito Paolo Bonolis l'SDL 2005. In questa intervista, Vladimir Luxuria, gli viene fatta questa domanda, se, dopo aver detto, insomma, diverse sue esperienze, gli fanno questa domanda, se è lei che è vero che ha litigato con Hillary Brasi, dopo che praticamente sono uscite le voci che il prossimo anno lei non sarà più riconfermata e tornerà, quindi, alla conduzione dell'isola Hillary Brasi. Le ha detto una cosa molto grave, ma molto grave, perché quando, caro Pesifio, si prendono questi personaggi, per carità, un po' così ambigui, un po' particolari, che hanno avuto alle spalle una storia molto difficile, e magari, vuol dire, e dice nell'intervista io non volevo fare l'isola, mi è stata chiesta e mi è stato detto lo devi fare per la volontà di mio padre e io ho dovuto dire sì a Pesifio, lo faccio per tuo padre, quindi, chissà, nell'intervista molti cosa avranno pensato. Magari a quell'altra intervista, che fece qualche giorno fa, di nuovo Prati Milossure, che io ho, c'è un video, quindi potete vedere tranquillamente, ce l'ho sui vari social, su YouTube, eccetera, dove lei parla che c'era un potente, il più potente di centrodestra che andava a trovarla con la scorta, quindi, per fare sesso. È chiaro che ribadisce ancora una volta questa forte, stretta amicizia con Silvio Berlusconi. Chiaramente questo fatto ha mandato su tutte le furie il figlio per Silvio Berlusconi, ha detto come? Mi dici sì, non perché devi essere onorata del fatto che io ti chiamo in prima serata a condurre l'isola dei famosi, l'unica transgender, l'unico trans in tutta Europa che conduce un reality così lungo per tante sere e con tutte le critiche che mi sono preso addosso, lasciamo stare te che sei la conduttrice, ma devi vedere a me quanto ne hanno dette, che la scelta è stata sbagliata, che è sgarbata, non è nelle condizioni di condurre, poi addirittura nell'intervista ti dai una sufficienza, dici che hai imparato a condurre, tutte queste cose, me non ho imparato niente, per essere sincero. Come ha iniziato, ha finito. Impacciata al massimo, proprio non è. Blasi, vabbè, Blasi è meglio lasciar perdere che trovarla, perché, vuol dire, lì era un romanesco continuo, battuta del cavolo, vuol dire, si sentiva padrone di casa, il padre eterno della situazione. E pensiva, secondo me, ha fatto bene a tenerla un anno ferma. Adesso farà batti di Alvin insieme ad Alvin, quindi, però voglio dire, continuare dall'isola, è probabile che il prossimo anno, se si farà l'isola, a meno che non si faccia la talpa, quindi ritorni lei. E quindi dici che hai imparato tanto, devi dire grazie alla gente che è stata vicina, a tutti i professionisti, agli opinionisti, eccetera. E fa, lasci intendere, che mi dici sì, perché lo devi a mio padre. No, devi dire sì a me, che ti ho scelto io. Mio padre non ti ha mai fatto nulla, non ti ha mai fatto fare niente in televisione. Facili tanto delle ospitate a Barbara D'Urso, se andate qualche volta al Maurizio Costanzo Show, ma quelli erano, non erano programmi miei di Mediaset, erano i programmi, lasciamo Barbara D'Urso, era mio, ma quelli di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, dove eri presente, non erano i miei format, erano i format della Fascino PGT, della società che avevano Maria, e adesso lei c'è l'anzione del figlio, però all'epoca avevano Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Quindi io, per Silvio Berosconi, ho fatto una forzatura a prenderti, con tutte le critiche che mi sono prese addosso, e che con tanta gente ho scelto proprio te. Un momento di rottura. Ho voluto anche seguire, per certi strascichi, anche quello che fa Maria De Filippi, Filippi, dove non mancano mai i personaggi un po' particolari. Basta vedere, per esempio, dice Bensilio Berosconi, la giuria di amici, che è fatta di tutta gente, vuol dire che fa parte della comunità LGBTQI+, adesso aggiungono sempre lettere, quindi ho anche delle difficoltà, però io ricordo che era LGBTQ+, poi IU, hanno aggiunto altre lettere, quindi non so cosa dire, però vuol dire sempre la comunità. Poi, giustamente, come dice Giuseppe Cruciani, che è un giornalista che io apprezzo, non bisogna chiamarsi comunità. Che significa comunità? Significa essere una parte di un grande mondo. Quindi quando, praticamente, siete persone come noi, siete persone normali, non avete bisogno di fare comunità. Gli LGBT non hanno bisogno di fare comunità. Voi siete persone come noi. Come noi siamo etero, voi siete omosessuali, siete lesbiche, siete bisessuali, siete trans, siete gay, siete come così, però siamo normali tutti. Non bisogna fare, allora facciamo la comunità degli etero, la comunità dei bisessuali, eccetera. No, non esistono in un mondo fatto come si deve, con delle regole democratiche, non ci deve essere la parola comunità. Non deve, io spesso sento negli Stati Uniti questa parola, la comunità dei neri, la comunità dei bianchi, la comunità degli europei, ma è una parola che suona male, perché siamo tutti uguali, siamo tutte delle persone con una propria dignità. Il fatto stesso di chiamarsi comunità, secondo me, è un grandissimo errore. E il prestito Brusconi glielo dice, io ti ho chiamato a condurre l'isola dei famosi, perché non fai parte di una comunità. Io, e questo do pienissima, pienissima ragione, forse è una delle poche cose che dice giusto il prestito Brusconi, perché non facevi parte di una comunità, ma perché eri una persona normale, con la tua storia, con i tuoi sbagli, le tue vittorie, le tue rivincite, le tue sconfitte, ma ti ho avuto lì. Però non puoi dire che lo dovevi a mio padre, e poi, all'improvviso, questa fa, sui vari social, l'ho vista, ma non amici miei, sta messa proprio male, senza trucco, viene costretta, nel backstage, dell'isola dei famosi, a dire, dietro le quinte, a fare un video, in fretta e in furia, e si vede che è fatto, che è stato infarinato, eccetera, potrebbe avere anche delle pistole a fianco, per dire, in cui ringrazia tutti, dice che la riconoscenza è un fattore che ancora oggi, voglio dire, esiste in pochissime persone, per questo ringrazia l'editore, ringrazia Persilio Berlusconi, ringrazia tutti i professionisti, che sono stati vicini, che è partita da zero nella conduzione, e adesso si dà una sufficienza importante, la conduzione, quindi ringrazia il pubblico, tutta quella gente, cioè, improvvisamente è cambiata, dall'SDL TV, dove sembrava, voglio dire, Branca Leone, alle crociate, quindi sparando a zero, a destra e a sinistra, improvvisamente, hanno detto, gli hanno messo due pistoloni, alle tempie, ha dovuto cambiare tutto, l'ho vista, oltre che ti devi truccare, cara, parli di lussuria, ti do un consiglio, vuol dire, da esteta, ti do un consiglio, prima di fare certi video, e sai che i video diventeranno virali, truccati, perché poi, non ti lamentare, che poi la gente, mette i tuoi video, e dici, però mi hanno molto colpito, offeso alcuni miei video, che mi hanno messo in cattiva luce, nei confronti dei professionisti, che ho nella mia corsa, all'isola del tempo, nell'isola dei repomossi, scusate, e anche con il mio stesso editore, eccetera, sono dei fuori onda, sono dei video sbagliati, sono anche dei video, che riguardano il mio, il mio passato, e così via, e quindi, voglio dire, ma prima di fare un video, in cui chiedi delle, vuoi dire, vuoi fare, ma si vede che è una farsa, vuoi fare chiarezza, sull'intervista, che ha fatto, a SDL TV, ed è strano, che questa intervista, te l'abbia fatta, una opinionista, che tu hai in sala, cioè, Sonia Bruganelli, è una tua opinionista, vuoi dire, tra l'altro, partecipa anche, con delle buone azioni, anche, alla produzione, performance, che non è solamente MESET, ma c'è anche la, SDL 2005, ecco perché ha fatto, le interviste, prima a Dario Maltese, che si è uscito, in maniera tranquilla, da professionista, se il quale, e poi l'ha fatto, a vari miliussure, quindi, gli hanno messo, queste pistole alle tempie, fa questo video, ma, davvero amici miei, l'ho visto di sera, è qualcosa di, inguardabile, è qualcosa che fa danno, sia alla vista, ma soprattutto, anche al concetto, di fare video, c'è un video, dove, è di una, è di un vuoto, proprio, quel video che senti, che non dice niente, non trasmette nulla, il modo in cui parla, si vede che, è un modo di, quasi, dire, guarda, ho detto quelle cose, magari senza pensarci, ho detto quelle cose, e tanto, quelle se le scritte, per sì, quelle se le scritte, e fin quando, credo, si darà a lui, l'amministratore, delegato, e credo, visto che ha 55 anni, e lo farà per molti anni ancora, tu, ma MESET, non ci metterai più piede, non farai più nessuna conduzione, su questo sta necerta, perché, te l'ha giurata, e lo farà, fatto stesso, che già durante il programma, ha detto che il prossimo anno, e ritornerà, il ribasi, fatto stesso, che durante il programma stesso, ha detto che, sei, inguardabile, te l'hanno detto tutti i colori, questo lo sai, volevo chiudere il programma prima, poi alla fine è arrivato fino a giugno, e volevo fare questo, volevo fare quest'altro, quindi, eri sempre tu al centro dell'attenzione, eccetera, alla fine capisco, io personalmente, che sto fuori, capisco che hai forse, tante ragioni, per aver detto questo, vale a dire, ho accettato, io lo manco, lo sapevo, che c'era l'isola, mi hanno, chiamata, costretta quasi a farlo, perché lo dovevo, al padre, eccetera, eccetera, ma poi, chiaramente, basta, finisce lì, poi, visto che devi andare via, non fatti mettere le, se sei davvero uno, che dici che vuoi, rappresentare, i tuoi amici, ecco, non voglio chiamarli, nella comunità, nei tuoi amici, eccetera, magari, no, di trasparenza sessuale, di vicinanza sessuale, chiamiamola come vogliamo, però, vuol dire, non puoi fare questi versi, questi video, perché sono davvero video, che ti fanno male, sono degli autocoll, c'è Francesco Benigno, che ogni sera fa un video, io non lo seguo, perché poi dall'altro, ne devo seguire tanti, essere amici miei, ho fatto un giro, ecco, faccio questo volo, pindarico, che è molto, molto importante, io parlo di, una persona che è 32 anni, che sta in queste cose, i sogni sono esplosi in Italia, diciamo, dal 2008, 2009, poi nel 2010, è stata esplosita, una complessiva, prima con Facebook, poi Instagram, poi Twitter, poi di entrata X, poi arrivato addirittura, quello dei cinesi, TikTok, e poi ho fatto un giro, ieri sera, così, perché ho andato via, da casa, wifi, stavo facendo alcune, alcune ricerche, quindi, mi sono dovuto fermare, erano le due e mezzo di notte, perché io preparo i video di notte, la notte per me, anche, andavo all'università, per me è il giorno, si illumina il cervello, non lo so, da quando ero piccolo, e ho fatto un giro, così per vedere, amici miei, io, non so, mi rivolgo particolarmente, al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, persona che io stimo, apprezzo, nonostante, magari, che volta vada fuori le righe, eccetera, ieri ho visto 100 video, ho fatto una media, 100 video, il 70% dei video, erano tutti giovani, donne e uomini, della Campania, che si prostituivano, sui social, certo, non lo facevano, in modo esplicito, perché altrimenti, i social ti chiude, ma era evidente, che vendevano, le proprie prestazioni, e così via, ecco, caro presidente, De Luca, mi rivolgo praticamente, al presidente della Campania, ma erano anche delle altre parti, del sud, della Rutta, quasi gente del sud, quindi, della Puglia, non ho visti pochi niente, pochissimi, però, per la maggior parte, ho visto Campania, Sardegna, e Calabria, Calabria e Sicilia, queste quattro regioni, questi più, però, la Campania, nella stragrande maggioranza, molte parlano anche, il dialetto, non si capisce niente, e quindi, devo dire, che ho fatto una ricerca, come facevo quando ero più giovane, che andavano a fare a Roma, i reportaggi, nel mondo della prostituzione, amici miei, per libero, lo facevo, rischiando la vita, rischiando la vita, però, era il mio coraggio, ed ecco, voglio dirvi, questo, fate molta attenzione, con chi parlate, tanto, non ve ne frega un cazzo, di quello che dico io, comunque, sono rimasto molto basito, da quello che ho visto ieri, allora, tornando a Vladimir Lussuria, tira la bomba, e nasconde la mano, diciamo così, ecco, poi fa questa, strana rettifica, con un video, in cui parla di tutto e di più, dicendo che si è trovata bene, è stata bellissima, l'esperienza, insomma, quasi così, amici miei, questo è il video di oggi, se vi è piaciuto, come sempre, non vi resta che un segui, per quanto riguarda i social, iscrivetevi al canale YouTube, FioriPodio65, il like, i commenti, sono importantissimi, la campanellina, per la notifica, c'è anche la pagina, Facebook, Aguilas Group, come vedete, alle mie spalle, quindi, stiamo presenti tutti i social, e poi un'altra cosa, mi sono accorto, dai commenti, leggendo qualche commento, che magari, commetto qualche errore, per esempio, un video di, tanto per farvi un'idea, io, immaginate, quanti video preparo al giorno, perché sono tante le notizie che arrivano, quindi, può succedere che commetta qualche errore, non perché io non conosca la questione, ma perché, ovviamente, nella fregola, di poter parlare, quindi, commetto dei piccoli errori, esempio, è chiaro che Viva Rai 2, era dalle 7 della mattina, alle 8 della mattina, non poteva essere dalle 7 della mattina, alle 8 di sera, come io ho detto nel video, è evidente che c'è stato di, un errore di, parlare, un errore del, il pensiero a volte vola, più della parola stessa, vuol dire, io ringrazio che mi è stato insegnato, che a valore giuri, in, in siciliano, significa fiore, quindi non sapevo questo, io pensavo che si chiamasse, invece, che significasse, eh, Rosario, perché, eh, Amadeus stesso, in un video, aveva detto questo, io ho preso spunto da questa cosa, e quindi l'ho portata, quindi non perché non sapessi, e io ringrazio, se mi fate queste correzioni, chiaramente, sono costretto, ripeto, a bloccarvi, se insultate, la mia persona, e la mia onestà, professionale, adesso un po', molto meno, molto meno, perché ormai, sono diversi mesi, quindi avete visto, che il progetto è un progetto serio, e quindi, vuol dire, però quelli che stanno lì, che hanno pochissimo, che hanno lì, gli elefanti di, di, gli trastieri, quegli stronzi, ecco, che stanno lì per offendere, eccetera, quelli che, se mi accorgo, raramente, non è che rego i commenti, se mi accorgo, li blocco. Amici miei, come dico sempre, più siamo, meglio è, più grande è la nostra cassa di risonanza. Vi voglio bene, alla prossima. Grazie.